Ciao, sono Alessia Thomas, ho 28 anni, vengo da Napoli. Sono laureata in lettere moderne e discipline delle arti e dello spettacolo. Attualmente sono un'educatrice alla scuola dell'infanzia e scrivo anche in un giornale e cerco di far consideri tutto con il mestiere dell'attore. Ho cominciato a recitare a 12 anni a teatro, che da lì in poi non ho più smesso. Mi sono approcciata al mondo del cinema da qualche anno, partecipando a vari cortometraggi e a workshop che mi hanno fatto conoscere tantissimi casting director e registi. Ho tantissime passioni, oltre quella della recitazione e della scrittura, amo fotografare. Sono un'avida lettrice di libri e amo il mondo della danza e del canto. Parlo tre lingue, sono madrelingua inglese, parlo il francese e lo spagnolo e ogni tanto anche il dialetto napoletano. Ho praticato due sport, da bambina il nuoto e il basket. Questi sono i miei profili. Grazie per l'attenzione.